Presidente Besceglia, quattordicesima edizione della Fattoria in Città, sempre più bella, sempre più grande, attese dalle 30 alle 35.000 persone, con un passaggio molto interessante che le ha detto stamattina, meno digitale più rapporto col territorio, specialmente per quanto riguarda i giovani. Che bello, l'ho detto? Ma veramente, perché ci credo veramente, perché io credo che sia giunto anche il momento, ci dobbiamo guardare negli occhi e vedo delle persone, vedo dei ragazzini, soprattutto dei ragazzini che sono attenti a queste cose, piacciono, sono interessati, vuol dire che la natura, le tradizioni sono cose ancora molto importanti in momenti particolari come questo. In tempi difficili per il commercio, partecipare a una manifestazione come la Fattoria in Città, da parte delle aziende, è un'importante scommessa? Certo, è un'importante scommessa, ma io ripeto questa cosa, ASCOM, che è l'associazione dei commercianti, non facciamo solo per il commercio, non lavoriamo solo per il commercio, perché io sono molto contento di chi prepara queste cose, perché ci vogliono dei mesi, non avviene così da oggi al domani. E di fare delle cose per la nostra città, noi stiamo a Vercelli, facciamo delle cose per Vercelli, lo facciamo con grande voglia di farlo, con piacere di farlo. Poi, come avete sentito, siamo imitati, da Roma e in altri posti, vuol dire che se imitano una cosa è bella, è di qualità, se no non la imita nessuno. Daniela Mortara, Sessore Comune di Vercelli, Fattoria in Città, quest'anno è legata anche a un avvenimento culturale molto importante. Sì, certo, grazie ad ASCOM, riusciamo quest'anno, almeno speriamo di riuscire a portare ancora più visitatori alla mostra di Gaudenzio Ferrari, che come sapete tutti è iniziata a marzo e finisce al primo di luglio. Quindi nelle giornate di sabato e domenica verranno distribuiti in fattoria dei coupon, che saranno di buoni sconto, per entrare in visita alla mostra a soli 4 euro, anziché i soliti 10. Questo solo ed esclusivamente per le giornate di sabato e di domenica e per i visitatori della fattoria in città, che quindi parteciperanno alla fattoria, andranno a cenare, a pranzare, eccetera, per cercare di portare più visitatori, ma al tempo stesso di rendere anche la fattoria ancora più culturale, anche se quest'anno lo è già, grazie alla mostra Extra e anche all'iniziativa del Risegno. Altri due avvenimenti legati sempre alla fattoria in città sono Extra e Risegno. Sì, esatto. Extra è il secondo anno, viene svolto all'interno dell'edificio Ex 18, che è un edificio non ancora assegnato da parte del Comune, e che per questo secondo anno vede appunto questa seconda edizione della manifestazione. Per noi è sicuramente un pregio avere all'interno di questo nostro edificio, che è stato restaurato e risistemato da poco, un'iniziativa di questo livello e di questo pregio, che unisce la parte di design comunque degli operatori della Federmobili di Vercelli ad artisti che sono stati chiamati da Marianna Foglia, che ringrazio per questo avvenimento. E per quanto riguarda invece il Risegno? Per quanto riguarda Risegno, quest'anno si è voluto, grazie a Livio Bourbon, partire da quello che è il mandala di riso, che viene fatto ormai a Vercelli da un po' di tempo, da qualche anno a questa parte in Camera di Commercio, mentre quest'anno, grazie a un'idea di Livio di parecchi anni fa, che ha preso spunto dalle infiorate che vengono fatte in varie città, di portare anche a Vercelli il riso all'aperto, quindi di costruire dei disegni grazie alle scuole, ai bambini e a tutti coloro che vorranno partecipare, ma sicuramente in primis i bambini, e renderlo un evento, ripeto, a cielo aperto, a differenza di quanto avviene con il mandala di riso, che è all'interno invece della borsa Risi. Con il direttore di Ascom Vercelli, Andrea Barasolo, affrontiamo invece il discorso dell'impegno organizzativo per un evento come l'ha fatto lì in città. È un impegno veramente, si inizia a pianificare da ottobre dell'anno prima, poi il vero lavoro sono poi un sessantina di giorni, si vive su una programmazione anche economico-finanziaria e gestionale, che è fondamentale per fare un evento di questa entità. Quindi c'è una squadra di persone tra Ascom e Conturca sui servizi, saremo una ventina di persone coinvolte, più i dirigenti Ascom che attivamente collaborano. Un impegno continuo che dura tutto quanto l'anno, che si concretizza in questi sei giorni di manifestazione. Esatto, quindi la speranza della mancanza di pioggia riguarda veramente l'impegno che viene profuso in tutti questi mesi, perché poi va a realizzarsi lo sforzo organizzativo di tante persone. Allora speriamo nel bel tempo. Grazie.